Nel 2024 la PEC diventerà interoperabile a livello europeo. Cittadini e imprese dell'Unione potranno utilizzare la posta elettronica certificata per inviare e ricevere comunicazioni a valore legale in modo sicuro, rendendo di fatto la PEC valida in tutta Europa. In questo scenario l'Italia svolgerà il ruolo di apripista. La PEC, nata e cresciuta in Italia, si prepara a diventare lo strumento di comunicazione certificata qualificato a livello europeo, in grado di rispondere ai criteri del regolamento EIDAS. Per fare questo passo decisivo, tuttavia, sono necessari due ulteriori requisiti che aggiungono nuove caratteristiche di valore alla PEC e ti consentiranno di ottenere la spunta blu di conformità ai nuovi standard europei. La conferma dell'identità del titolare tramite il riconoscimento con uno dei metodi disponibili, come speed, firma digitale o remota, tessera sanitaria, carta di identità elettronica o webcam. Questo consentirà di associare a ciascuna casella un titolare con identità verificata e l'attivazione della verifica in due passaggi sulle caselle, che aggiungerà un ulteriore livello di protezione. Infatti, oltre a username e password, verrà richiesta una specifica autorizzazione sul dispositivo associato. Adeguare la propria casella PEC ai nuovi standard europei di comunicazione qualificata sarà un'operazione obbligatoria per poter continuare a usare le caselle. Ecco perché ti consigliamo di farlo subito. È una procedura completamente gratuita, semplice e veloce, e ti consentirà di ottenere la spunta blu di conformità per la tua casella, senza la necessità di dover compiere ulteriori azioni in futuro.